salve a tutti dar papi mi sono fermato perché ho visto una macchina sospetta da una parte qui che sta vicino a degli animali ma chi è questa macchina a chi chi sarà mai chi sarà mai qui c'è nasinello bello con un pancione grandissimo perché mangia tanto ma questo è il capitano buongiorno capitano o un grande rappresentante della ringrazio prego il dono l'ho trovato così casualmente per strada e t'ho pizzicato proprio un pieno allora io sempre vedo le dirette che tu fai qui si hanno detto voglio vedere se sono veri o se sono finti sti asinelli perché sembravano finti invece sono proprio belli ma tu gli hai dato pure il nome questa allora questa se femmina la chiamiamo monica poi allora questa se femmina la chiamiamo asia poi c'è mogigliola e assunta se so femmine se poi sono maschi non lo so qualcuno chiameremo paolo il cavallino pure c'è sta paolo e rinardo allora siamo nella zona che zona è questa lago cricilli come sempre a dare una sistemata a controllare tutto quanto che questo è un bel cavallino ma questa lo sai che c'è una storia sta cavallina che ha difeso mare in mano lei non lo sai come abbiamo fatto tantissime visualizzazioni perché praticamente è entrato qui mare in mano che si era sentito male e gli asinelli l'attaccavano e lei si è messa davanti per difendere il mare in mano ma questa è grandiosa ha fatto veramente i numeri si guarda ora che roba ci abbiamo uno schieramento segnale gps interrotto gps interrotto grazie sta a posto comunque guarda quanto sono belli vabbè il nostro capitano corpo forestale ringrazio prego e dono se fa anche qualche bel selfie ce lo era noi pensavo fossero finti invece no questi sono veri e magnano pure atto sono belli ma tu dobbiamo prendere uno per noi pure bello bello ma come sta leo è bene comincia a correre stagini a mania me l'ho visto che te corre dietro sì sì ho visto il video ieri comunque bellissimi gli asinelli italia quattro zampe e ringrazio prego e dono associazione che fa parte del nostro gruppo ma si possono accarezzare ma è bellissimo accarezzare la cidella prima mattina è bellissima sta cosa grazie paolo per la tua opera che ogni domenica fai vero guarda e loro aspettano ormai si sono abituati subito subito è veramente una persona dal cuore grande il nostro paolo manfred italia quattro zampe e ringrazio prego e dono anche in questo caso è anche per loro la voce di tanti pelosetti del mondo anche quelli speciali perché loro sono speciali guarda è bello è bello accarezzare l'asinello mamma che capoccia dura che c'è bellissimi